In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Tancic Stern, una gara importante, una bella vittoria, serviva poco per la classifica ma molto per il morale. Sì, è vero, dopo tutte quelle partite che abbiamo perso in ultimo mese e due, basta, siamo molto contenti per questa oggi, soprattutto perché era un derby tra noi e Verona che anche forse vale di più per noi, poi alla fine sicuramente ora dobbiamo guardare avanti per i play-off, per tutte le partite che ci aspettano, però con questa abbiamo alzato un po' di nostra atmosfera, posso dire mentalità anche, siamo alzati un po' e spero che andremo così avanti. Vediamo alla fine che siamo allenando bene, siamo alla strada giusta, però in ultime partite non abbiamo fatto il 100%, però oggi abbiamo giocato bene, posso dire benissimo, sicuramente ci sono anche cose che possiamo migliorare, che possiamo allenare, però l'importante è vittoria. Infortunio di Cavica, c'è stato quel momento difficile, adesso però c'è Alex, vedo che insomma si è ben integrato col gruppo. Sì, era difficile in questo momento perché Cavi come primo paligliore si è infortunato, poi come secondo, soprattutto io e anche altri, non abbiamo fatto tanti allenamenti durante tutto l'anno, alla fine si è cambiato, è venuto nuovo Alex che ha portato un po' di freschezza tra di noi e si è visto subito, mi sembra oggi in partita, che è fatto molto bene e abbiamo vinto con lui.